Con meraviglia sulle tracce dell'arco baleno. E' il titolo della splendida iniziativa realizzata dal QAnis Club Region 2007 con le scuole per l'infanzia di Motta San Giovanni Lazzaro, in sinergia con il comune di Motta assessorato alla pubblica istruzione. L'inaugurazione dell'Aiole con colori dell'arco baleno, simbolo dell'istituto comprensivo, rappresenta il momento conclusivo di un percorso didattico ed educativo che vuole sensibilizzare i bambini e la comunità sul principio del bene comune. Non poteva non essere che gioia e festa questa mattina a conclusione di un percorso che ha avuto inizio a settembre, quando abbiamo inaugurato la scuola dell'infanzia e questa struttura è stata riconsegnata ai bambini di questa comunità dall'amministrazione comunale, dal sindaco e dall'assessore. In quell'occasione abbiamo avuto modo di conoscere il QAnis, questa organizzazione comondiale che è a servizio dell'infanzia. Grazie all'assessore che ha permesso questo incontro, la scuola si è ritrovata quindi col QAnis attorno a valori, principi, ma anche attorno ad uno stile di azione che è quello del servizio ai più piccoli. Un servizio che nasce dall'ascolto dei bisogni dei bambini a partire dal riconoscimento dei loro diritti. Presente al momento inaugurale anche il sindaco di Motta San Giovanni Paolo Lagara che ha ringraziato il QAnis per l'attenzione rivolta all'infanzia e dal territorio. Io stamattina avevo detto all'assessore che purtroppo per impegni miei personali e professionali non potevo essere qui. Però ho abbandonato tutto perché sentivo il dovere di mantenere un impegno innanzitutto con voi, per le cose che vi dirò da qui a brevissimo e anche con la mia coscienza. E con voi perché era giusto che io venissi a dirvi che questa scuola che noi abbiamo ricevuto in eredità chiusa, chiusa, non vi dico quasi distrutta ma posso dirvi chiusa per anni. Noi di questa scuola abbiamo fatto come era nostro dovere un luogo che voi vedete qui stamattina, arricchito con la bellezza di questa esperienza, ulteriore esperienza che noi di cui beneficiamo stamattina e che siamo riusciti anche grazie all'impegno, a risorse comunitarie a portare e a completare. Questa scuola, voglio assicurare le mamme, nell'agosto del 2014, dopo tutte le certificazioni di rito, è stata collaudata e resa agibile. Prende la parola la presente del Kiwanis Club Region 2007 Anna Maria Reggio per spiegare le varie fasi del progetto sviluppato con i bambini di 5 anni nell'arco dei due mesi in sintonia con le referenti scolastiche Paola Spanò per il plesso di Motta e Filomena Crea per quello di Lazzaro. In realtà siamo noi a ringraziare la scuola e l'amministrazione comunale proprio per averci dato l'opportunità di conoscere questa bellissima realtà sia a Lazzaro che a Motta. Per noi del Kiwanis, noi siamo i rappresentanti del Kiwanis Club Region 2007, ma il Kiwanis è un'organizzazione mondiale presente in 80 paesi del mondo con oltre 600.000 volontari al servizio dei bambini. Noi ci impegniamo in delle raccolte fondi per combattere ad esempio il tetano materno e neonatale, il progetto più grosso che abbiamo con l'UNICEF, però ci occupiamo anche di progetti per l'infanzia legati proprio alla creazione e alla formazione di quella che è la classe dirigente del futuro. Quindi con progetti didattici, educativi all'interno delle scuole per la formazione proprio della leadership. E in questo caso abbiamo proprio sposato la macroarea del POF della scuola materna di Lazzaro in Motta che si occupa proprio del concetto di bene comune. Il progetto, come ha annunciato la Presidente del Kiwanis, parteciperà ai riconoscimenti che il Distretto Italia San Marino darà i migliori service dell'anno del centennario del Kiwanis International. Il Kiwanis non è nuovo ad iniziative nelle scuole per sviluppare la leadership ed educare al senso di responsabilità sociale anche con la creazione di club Kiwanis per i più piccoli, come ci spiega Raffaella Crucitti, responsabile dei programmi sponsorizzati del club. Anche quest'anno io lavoro soprattutto con il KiKids. Abbiamo realizzato un club di bambini presso la scuola Principe di Piemonte a Reggio Calabria dove abbiamo fatto una serie di iniziative perché secondo noi i bambini sono il motore della società e attraverso di loro possiamo realizzare effettivamente una società migliore, moderna e dobbiamo insegnare a loro i valori. Noi abbiamo iniziato questo progetto facendo vedere ai bambini il cortile, le cose sporche, gli abbiamo insegnato il rispetto per i propri spazi. I bambini hanno pulito il cortile, hanno capito che devono avere cura e rispetto delle loro cose ed è una cosa importantissima perché noi dobbiamo trasmettere ai bambini i valori essenziali. La parola dunque all'assessore alla pubblica istruzione e politica sociali del comune di Motta, Carmen Latella, che ha partecipato in prima persona alla fase realizzativa del progetto svolto in collaborazione con gli operai del comune della forestale del volontariato Antonio Caserta. Presente alla cerimonia la massima autorità della divisione 13 Calabria del Chiuanis, il logotenente governatore Antonio Ielo, che ha apprezzato l'iniziativa del Region per l'impatto del service sulla comunità e per il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e comunali. Io ritengo oggi sia una splendida giornata, una splendida giornata non solo dal punto di vista climatico, anche se c'è un po' di vento, ma è splendida perché ho visto, ho sentito delle cose che veramente mi fanno piacere. Intanto ringrazio Anna Maria, mi stupisce sempre di più perché le sue manifestazioni, quello che organizza, hanno sempre un fine, un obiettivo importante e qua credo che ha raggiunto l'obiettivo che è estremamente interessante e utile, cioè quello di far recepire quello che è il senso del bene comune, cioè la partenza, che gli spazi, i luoghi dove viviamo sono bene di tutte le persone. Naturalmente questo è un concetto che viene trasmesso anche e soprattutto a chi collabora, a chi vive nell'ambito scolastico, che vive nell'ambito della città, i bambini avranno recepito sicuramente delle cose. Io sono bambini di 5 anni, mi pare, ho un nipote di 5 anni che so come ragiona, cosa pensa e come riesce a captare le cose che gli vengono proposte. Quindi i bambini, anche se ora si stanno stancando e quindi vedo che sono più vivaci, però hanno recepito in quest'arco di tempo quello che significa avere un bene comune al loro modo di vedere, perché partecipano intensamente, lo vivono intensamente, hanno vissuto queste esperienze. Analoga iniziativa il giorno prima alla Scuola per l'infanzia di Motta, condivisa con le insegnanti e i genitori e i bambini di tutte le classi. Fra le autorità chiuaniane presenti, il first luogo tenente governatore Natale Pratico, il segretario divisionale Demetrio Fiordaliso, il presidente del Chiuanes Club di Bagnara Natale Cutrupe, il first president del Chiuanes Club di Reggio di Calabria Ignazio Romano. La cerimonia si è conclusa anche qui con la piantumazione di una piantina aromatica in segno di solidarietà verso i bambini che ancora muoiono di tetano in 23 paesi del mondo. La somma di 1,50 euro, pari al costo di tre dosi di vaccino, è stata infatti destinata al service mondiale Eliminate, che vede assieme Chiuanes e Unicef in questa grande campagna umanitaria.